Ho mai scritto con la penna? Stasera si dorme belli freschi, staccare centomila volte non sarà affatto un problema. Semmai è il fumo che mi dà fastidio, ma ancora per poco. I tuoi succinti capelli sono in fiamme, vampate alte, verdi e luccicanti, con contorno di pelle di vitello a macchie. Calligrafia nevrotica. Si vede che non sono più abituato. Raschio in profondità con un solo tiro. Tra poco sarà passato anche questo rombo attrito radente di citroen due cavalli. Ma esistono ancora? Su questa carta in due dimensioni io perdo il senso delle cifre, però tu sei molto peggio di me. Anche le tue orecchie stanno bruciando, ora, e nonostante tutto i tuoi affilati occhi continuano a fissarmi. Grazie. 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 Grazie.